La maggior parte delle strutture ricettive sono chiuse. Nelle Marche, così come a Fano, la situazione si fa sempre più complicata in vista dell'imminente stagione alle porte. Il turismo diventa una delle partite più difficili da affrontare. Si basa per definizione su contatti fisici, che spesso è inconciliabili con il distanziamento sociale, da mantenere in vista della fase 2 disposta dal governo. Se a Fano si sta adoperando per trasformarsi in una delle prime località turistiche covid-free, adottando un protocollo di sicurezza da un team di esperti, la situazione degli albergatori locali attualmente è molto preoccupante. Questa è la situazione che si presenta a fine aprile. Quasi la maggior parte degli alberghi situati qui in Viale Adriatico a Sassonia di Fano sono totalmente chiusi. Iniziamo il nostro racconto partendo da una zona della città con forte presenza di alberghi, dove in questo periodo, in tempi normali, molte strutture iniziavano già a ricevere diverse prenotazioni. Ora incombe il silenzio. Alcuni proprietari si adoperano per svolgere la manutenzione ordinaria con la speranza di poter ripartire il prima possibile, come Mario che da 51 anni di attività si è completamente dedicato al suo lavoro. Non sappiamo cosa fare. Le poche prenotazioni che si erano vengono annullate. Non sappiamo come, come e quando aprire, riaprire, perché io sono non stagionale ma annuale. Per quanto riguarda l'hotel Excelsior, quasi sicuramente non si riaprirà. L'hotel Ancel e l'hotel Borivasi hanno grosse difficoltà ad aprire, anche perché quelle che devono essere le prescrizioni ci sembrano una in contrasto con l'altra. Molti albergatori si trovano a fare i conti sulle perdite, sulle disdette e sulle prossime norme di sicurezza da adottare non ancora definite. Solo disdette, ultimamente sì. Qualche prenotazione per il mese di agosto, qualcuno a luglio, però è un calo drastico. Se può tradurre questo calo di prenotazioni in percentuale, a quanto ammonterebbe? Il calo, sono l'85% del calo, proprio netto. Il suo albergo è aperto? Come vi state organizzando anche per ospitare eventuali clienti? Ci siamo organizzati completamente da soli. Siamo io, mio figlio, mia moglie, mia figlia che ci diamo una mano in cucina, quindi non abbiamo bisogno di personale aggiuntivo e cerchiamo di limitare al massimo i costi. L'emergenza sanitaria ha provocato la paralisi dell'intera filiera che genera circa il 12% del PIL italiano. Secondo le stime elaborate da CNA, nel primo semestre del 2020 i ricavi del turismo subiranno una contrazione del 73%. Intanto Federalberghi lancia un grido di allarme e invia al governo un protocollo nazionale per la prevenzione. Deve essere ben preciso, come naturalmente i bagnini, come naturalmente i negozi commercianti, però noi abbiamo bisogno di un disciplinare, un disciplinare esatto. Noi puntiamo tutto sul turismo nazionale, è vero, però anche il discorso che riaprissero presto, naturalmente con le cautele, le altre regioni, perché noi non possiamo fare il turismo con quelli di 50 km. Vedere le strutture chiuse è molto negativo. Noi puntiamo molto sul discorso dei soldi a fondo perduto.